facciamo una prova? e no però no cioè conta solo sotto cos'è scatto improvviso due ore la guardia è vista? dov'è? da quittare da quittare sì ciao guarda come provano a salvarli in tutti i costi e in tutti i modi sì perché mi è preso? sì no 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 Ahhhh. Ma che sono? Ahahah. 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 Ah. Ah! Ah. Ah! Ah! Sì, 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 sì. All'isopera! Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh No, no, no. Che skifo. Me! 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 No, 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 no. E guarda che livelli erano, guarda che livelli erano, quanta roba c'hanno. Distrutti nella mappa più forti, battuti nella mappa più forte per i survivor. L'ho sentita qua, dov'è? Sotto dici? Eh, il top solo dovrebbe fare anche questa, ma... C'è che è dall'altra parte, vediamo. Non l'ho chiusa molto molto la botola, la vediamo un attimo. Scavetta, dai! Non scavetti. Ma mai non scavetti. Si, si arresa. Spero che ti picchia sul gancio la guardia. Cioè, penso di averla giocata bene. Cioè... Ho fatto un botto di punti. 124.000. Guarda qua. Vabbè, però son bravo io, eh. E qua... L'ho giocato... Cioè, qua... È vero, ho fatto degli errori, però... Cazzo... Porca puttana. Vuoi vedere l'ultima? Non so, con... Mari con lo spirito. Pagliari. Oh, ormai. Pagliari. Alla prossima. Cosa? Ocala. Cosa?